La non-violenza, scrive Thomas Edison, conduce all'etica più alta, che è l'obiettivo di tutta l'evoluzione. Fino a che non smetteremo di fare del male agli altri esseri viventi, saremo sempre dei selvaggi. Nel corso della storia si è parlato spesso di progresso sociale, di progresso della scienza, della tecnologia, ma il vero progresso, in realtà, per essere tale, e non sterile avanzamento materiale, non può che riguardare la vera natura dell'essere umano, la natura morale. Il più grande filosofo del Settecento, Immanuel Kant, parla di legge morale, come di un senso innato nell'uomo, che ha diversi livelli a seconda del grado evolutivo della persona, il quale indirizza l'essere umano a distinguere il bene dal male e a conseguire il bene, non per ragioni retributive, ma perché è consapevole intimamente che è giusto agire nel bene. Crescere a livello morale significa porsi in relazione con il mondo senza contrasti, riuscendo a trascendere il proprio ego, il piccolo io che zampilla dentro di noi, abbracciando in tal modo la natura del mondo di cui siamo parte. Bisogna superare necessariamente l'egoismo, il senso di separatezza dagli altri, l'avidità e la lotta. Bisogna imparare a dare più che apprendere. Date vi sarà dato, dice Gesù, sintetizzando in tal modo l'intera gamma della legge morale. Il senso morale insegna che è importante dare non unicamente nel senso materiale del termine, perché è un dovere dell'uomo, dotato di ragione, cuore e intelletto. Bisogna dare amore, carità, gentilezza, compassione, ma soprattutto essere animati da un senso di benevolenza che abbracci ogni essere, dall'assenza di malizia e di secondi fini. Il senso morale ci insegna che noi siamo una piccola parte dell'universo, destinata a scomparire e ad essere riassorbita dalla sorgente iniziale da cui proveniamo. È inutile collezionare monili, tesori e denari che un giorno andranno abbandonati, ma chi è animato da senso morale desidera rendersi utile, aiutare, fare del bene, perché comprende che è nel bene che compiamo che è riposta la nostra felicità. Il senso morale non è moralismo ipocrita e bigotto, tipico dei bacchettoni che predicano bene e razzolano male. La persona animata da senso morale pretende tutto da sé, ma ben poco dagli altri. Lascia ad ognuno compiere le sue scelte, consapevole che è assurdo oltre che stolto pretendere da tutti le stesse cose. Egli non giudica, sa che ognuno ha il dovere di guardare la strada che ha davanti e di come agiscono gli altri non si cura. Il senso morale è quello che ha spinto i martiri al sacrificio, gli eroi alla lotta per la giustizia, le persone di buona volontà all'azione altruistica. Molti potranno ribattere che agire in tal modo è estremamente difficile per l'uomo comune, abituato a crogiolarsi nell'egoismo e nell'orgoglio, e infatti rispondiamo che ognuno ha un senso morale che è proprio al suo livello evolutivo. Ma una cosa è certa, ciascuno di noi è condotto, volente o nolente, alla crescita morale, e molte volte sono proprio le tragedie o le disgrazie personali ad accrescere la bontà, la legge morale sepolta dentro di noi. Il solo progresso è di natura morale, esso è l'unica strada per abbandonare l'animalità che è in noi e trionfare agli occhi dell'uomo e di Dio.